Con la telecamera di Diego Martelli siamo venuti a Giulianova alle nostre spalle il sottopasso ferroviario di Via D'Annunzio dove ieri sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare dall'acqua che aveva intasato, invaso insomma il sottopasso un'auto con due persone che erano a bordo. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per quanto accaduto ma tutto questo per dirvi che oggi siamo venuti qui per fare un po' quella che è la conta dei danni almeno nel comune di Giulianova dopo il terribile nubifragio che si è abbattuto ieri sul Terramano in particolar modo sul litorale, quindi sulla costa che va da Giulianova a Martinsicuro e anche nel territorio della Val Vibrata. Sono state tantissime le chiamate di intervento, le richieste di intervento ai vigili del fuoco per liberare scantinati, cantine ma anche piani interrati delle abitazioni che sono state appunto invase dall'acqua. Abbiamo ascoltato il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, che ci ha fatto un po' il punto della situazione. Tutto questo mentre le scuole intanto di ogni ordine e grado, vi ricordo che restano chiuse a Roseto, Giulianova, Tortoreto, Controguerra, Albadriatica, Sant'Egidio, Mosciano, Ancarano, Martinsicuro, Nereto, Sant'Omero e Bellante. In questi comuni i sindaci hanno emesso appunto delle apposite ordinanze per questa giornata di oggi, per evitare ulteriori problemi. Ivan Costantini, sindaco del comune di Giulianova, qual è la situazione oggi dopo il nubifraggio che ha interessato ieri anche il suo comune insieme a tanti altri comuni della costa terramana? Ma diciamo che oggi la situazione è sotto controllo, il peggio è passato, il muro d'acqua che ieri ha colpito tutti i comuni della costa terramana oggi ci mette in una situazione di sicurezza perché le previsioni dicono che stiamo andando incontro a bel tempo. Naturalmente si fa la conta dei danni che non sono tantissimi visto la mole d'acqua che è scesa. Purtroppo abbiamo pagato mesi di siccità con due ore dove è venuta giù l'acqua che non è venuta giù per l'intera estate. I danni non sono tantissimi, speriamo che si riesca nell'arco dei prossimi anni a fare degli interventi radicali, quelli che non sono mai stati fatti perché tutto il ritorale adriatico quando ci sono delle vere e proprie bombe d'acqua come questa non è pronto e quindi i nostri canali a mare molte volte sono al di sotto della linea della mareggiata che ieri era in mare e quindi fanno delle difficoltà enormi a smaltire tutta l'acqua che arriva. Scuole chiuse di ogni ordine grado anche a Giulianova, da domani cosa succederà? Oggi abbiamo deciso di chiudere le scuole come tanti altri comuni della provincia di Teramo, l'abbiamo fatto perché vi assicuro che il nostro timore, quello dei sindaci, erano i trasporti e quindi naturalmente volevamo fare la conta dei danni oggi e far viaggiare i nostri ragazzi in totale e assoluta sicurezza. Quindi da domani mattina le scuole saranno riaperte. Un'automobilista è rimasto anche bloccato in un sottopasso allagato, ci sono state conseguenze particolari? Conseguenze particolari per fortuna non ce ne sono state, noi sulla viabilità abbiamo avuto dei problemi ma non abbiamo mai interrotto la statale 80, cosa che invece purtroppo è accaduta in qualche altro comune. Quindi abbiamo cercato e ringrazio i dipendenti del comune, i vigili urbani, i dirigenti, i funzionari perché comunque la viabilità primaria, quella che garantisce la possibilità ai soccorsi di passare è stata sempre garantita sul comune di Giulianova, cosa che purtroppo non è accaduta in altre realtà dove sulla statale sono state interessate da alberi che hanno invaso la statale e hanno dovuto interrompere. Quindi noi, ripeto, è passata, è stata veramente una bomba d'acqua e purtroppo ci dovremmo abituare a dei fenomeni climatici che tanto tempo fa non erano previsti e negli ultimi anni purtroppo interessano i nostri territori.